Due concessioni per 10 pozzi per l'estrazione di idrocarburi nei comuni di Lugo e Bagna Cavallo per una durata di almeno 15 anni. Questo è quanto ha rilasciato nei giorni scorsi il Ministero per lo Sviluppo Economico. Nella delibera pubblicata sul bollettino ufficiale del 31 dicembre viene spiegato il progetto nel dettaglio. Cinque pozzi, due esistenti e tre nuovi per la zona di Bagna Cavallo per la durata di 20 anni, mentre per quanto riguarda Lugo c'è il rinnovo della concessione di San Potito che è stata prorogata per 15 anni. A beneficiarne sono la società Padana Energia e Enel Longanesi. Una scelta, quella del governo, che non riguarda solo la Romagna. Tante sono le autorizzazioni rilasciate in diverse regioni italiane sia per quanto riguarda l'estrazione a terra che per le piattaforme in mare e che hanno fatto infuriare le opposizioni, in particolare i tanti movimenti di protesta denominati no-trib e che nel corso dell'ultima campagna elettorale avevano ricevuto diverse rassicurazioni da parte del Movimento 5 Stelle sul fatto che non sarebbero stati rilasciati nuovi permessi. Sul banco degli imputati c'è prima di tutto Luigi Di Maio che nel 2016 votava sia il referendum che aboliva i rinnovi delle concessioni e che da vicepremier si trova ora a dover giustificare un clamoroso volta faccia. Abbiamo le mani legate, spiega Di Maio, in quanto queste autorizzazioni erano già state approvate dal precedente governo. Gli viene in aiuto anche il ministro dell'Ambiente Sergio Costa che rilancia non ho mai autorizzato trivellazioni nel nostro paese e mai lo farò. Il titolare del ministero promette di darsi da fare per bloccare i prossimi 40 procedimenti pendenti e si dice pronto a incontrare i comitati per chiarire la situazione.